Gli indici del Sole 24 Ore pubblicati ieri hanno dato un volto positivo della realtà retina. Lei però un mese fa lancia un grido d'allarme molto forte. Oggi siamo sul 28esimo posto su 109 province a Rezzo. È chiaro che il 28esimo posto è fatto da tantissime differenti posizioni in tantissimi settori che ti porta al 28esimo posto. Noi abbiamo un problema di credito, abbiamo un grande problema di credito che le nostre piccole aziende non riescono a entrare nelle manche per avere nuovo credito e nello stesso tempo è fatto anche questo 28esimo posto, mi sembra sia 28esimo, è fatto anche dalla sicurezza, è fatto dalla sensazione di quanto costa la vita ad Arezzo. Dunque alcune parti sono positive, altre sono negative. Tornando al costo del denaro, quello che è importante per vedere se un governo ha lavorato bene o lavorerà bene è il differenziale dello spread, se si abbasserà più di quello che attualmente si è abbassato dei 377 punti nel futuro. Più si abbasserà più vuol dire che il governo ha lavorato bene. Presidente, a questo punto non potremmo dire più buon Natale, ma buon spread. No, diciamo un buon Natale che è molto bene. Grazie.